combatti la cellulite gratis a casa tua con questo rimedio fai da te ciao amici come eliminare la cellulite bisognerebbe darci un taglionetto sappiamo bene che non si può fare la natura per fortuna ci aiuta e la cellulite si può combattere ogni giorno in questi tre modi uno mangiare sano due fare sport tre un rimedio speciale i primi due li sapevo già ma il terzo il terzo è l'aceto di mele se vi piace l'idea di combattere la cellulite a casa in modo facile naturale mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video perché l'aceto di mele è utile contro la cellulite secondo uno studio del 2004 dell'arizona state university negli usa l'aceto di mele è efficace nel ridurre l'accumulo di grasso nelle cellule del 10 per cento in particolare riduce la conversione di carboidrati in grasso e la ritenzione dei liquidi tra le cellule grasse in più l'aceto di mele ha una potente azione detox naturale importante per eliminare le tossine che il corpo parcheggia nelle cellule grasse e nei liquidi responsabili della cellulite e non solo l'aceto di mele aiuta anche la circolazione sanguigna e linfatica è un cibo alcalino e favorisce il corretto ph dei tessuti tutti questi fattori insieme lo rendono un alleato perfetto per combattere la cellulite e come devo usarlo sto per dirlo ecco la bevanda anticellulite con aceto di mele ingredienti un litro di acqua due cucchiai di aceto di mele preparazione sciogliere l'aceto nell'acqua e conservarli in una bottiglia come si usa si bevono quattro bicchieri al giorno in questi momenti un bicchiere al mattino a stomaco vuoto almeno 10 minuti prima di colazione un bicchiere 20 minuti prima di pranzo un bicchiere a metà pomeriggio un bicchiere 20 minuti dopo cena e per quanto devo berlo si fa così si fa un ciclo di un mese dove si beve questo rimedio per 15 giorni e si fa una pausa per gli altri 15 giorni ovviamente il povero aceto di mele da solo non può fare miracoli ma è un ottimo alleato se ci dedichiamo a combattere la cellulite a tavola mangiando in modo sano e facendo un movimento ogni giorno almeno 30 45 minuti per conoscere i miei altri rimedi anti cellulite scaricate i miei ebook e iscrivetevi al canale è facile basta un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto vivi sano e combatti la cellulite con gli alleati della natura vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao